La provincia di Benevento ha sottoscritto un protocollo d'intesa con l'Ordine dei Medici di Benevento, avviando così un importante legame di collaborazione in questa fase di emergenza sanitaria. La provincia ha donato 4.400 dispositivi di protezione individuale ai medici sanniti impegnati sul territorio nella battaglia contro il Covid. In una videointervista il presidente Antonio Di Maria si è detto soddisfatto del lavoro portato avanti e ha anticipato che già lunedì prossimo anche l'ospedale San Pio sarà fornito di un nuovo respiratore per la terapia intensiva. C'è stato richiesto la possibilità di fornire dei respiratori e delle altre attrezzature necessarie per questa emergenza. Ci siamo attivati e mi auguro che nella giornata di lunedì potremmo consegnare questa strumentazione all'ospedale civile per poi metterla in esercizio.